di chi mi comandava, di chi mi dava gli ordini, del mio capo supremo, ok? Per cui questo effetto lucifero non è altro che l'eccezione alla regola. Per il 90% succede che il nostro anturasi, il nostro sistema, ci influenza dalla mattina alla sera. Quindi se io nasco fra persone veramente positive, potenzianti, divento 99% come loro. Se nasco in un ambiente depotenzianti che parla spesso e volentieri di povertà, malattie e morte, io rischio di diventare come loro. Infatti fecero negli anni 70 un esperimento su due gemelli omozigoti della stessa sacca, identici in tutto e per tutto, datti in affidamento a due famiglie diverse. Notarono a distanza di 20 anni che in base alla famiglia lo stesso gemello era più positivo oppure meno negativo in base ai valori che aveva la famiglia che lo aveva allevato, che l'aveva cresciuto. Cosa voglio dire? Che gli scienziati hanno visto che è vero che l'ambiente influenza, ok? Però è vero anche che esiste l'eccezione. E perché ti racconto tutto ciò? Perché l'effetto lucifero per me è un'altra cosa. Cosa ci colpisce come l'oca, l'occhetta quando apre gli occhi? La prima figura di essere vivente, in questo caso può essere l'essere umano, viene visto come madre e lo segue dappertutto, come nei cartoni animati oppure se hai visto qualche documentario animalista, eccetera, eccetera, sugli animali, sulle ocche. E anche qui c'è stato un altro esperimento. Quindi è vero che il sistema ti influenza, ma è vero anche che esiste il famoso effetto lucifero, come l'hanno definito gli scienziati, significa che c'è l'eccezione. L'eccezione conferma l'equazione che il nostro subcosciente, in base a ciò che percepisce, in ciò che si imprime come un marchio a fuoco, nel nostro subcosciente fa la differenza. Infatti con l'effetto lucifero notarono che anche figli di buona famiglia potevano, come eccezione, diventare delle persone cattive. Perché? Perché sicuramente erano stati, tra virgolette, ipnotizzati negativamente dalla TV, da qualche film, da qualche personaggio e naturalmente erano diventati come quel personaggio. Io mi ricordo un bambino di 4 anni che, vedendo molto spesso l'uomo ragno, si rampicava sui muri, sui muri come l'uomo ragno, perché era stato così impressionato a livello subcosciente dell'uomo ragno e che copiava i suoi movimenti. Ecco come funziona la nostra mente, ragazzi, sia da piccoli ma soprattutto anche da adulti. Per cui se tu vuoi uscire da qualsiasi problema, dalla depressione, dall'ansia, dalla paura, dalla mancanza di autostima, dalla mancanza di memoria, concentrazione, oppure hai le gomme sgonfie nel tuo lavoro, nelle tue vendite, compagnia bella, bene utilizza l'ipnosi di CS Vera professionale con la V maiuscola e cambia radicalmente la tua vita anche da solo, senza dare conto a nessuno, senza girare cappelle, senza mettere la famosa tuta, magari anche scaricandoti un audio, più di un audio di CS che può fare per te o per il tuo caro che magari non vuole essere aiutato o non può essere aiutato. Quanta gente non vuole l'aiuto di nessuno, né online, né offline, bambini, adulti, anziani, o che non possono essere aiutati. Rifletti, fermati un attimo e vedrai quanta e quanta gente si trova in queste condizioni. Ora con il metodo di CS, l'ipnosi di CS, tu puoi aiutare anche chi non vuole, sempre a fin di bene e sempre, aggiungo sotto la tua responsabilità, se sei il papà, la mamma, un caro che tiene a questa persona, che non vuole il tuo aiuto o che non può riceverlo. Quanti alcolizzati, drogati, anche bambini autistici che non seguono neanche l'ipnosi conformista e commerciale possono e sono stati aiutati dall'ipnosi di CS vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills. Per cui, di cosa stiamo parlando? Poi, se hai bisogno della presenza fisica, siccome il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni online di ipnosi di CS vera e professionale, puoi andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale, la V maiuscola della tua zona, in qualsiasi parte in cui risiedi, ti siedi, domandi e vedi se ha già affrontato casi come il tuo e finalmente dai luce alla tua vita ed esce anche se ti ha preso questo effetto lucifero, tu puoi eliminarlo, quindi puoi veramente prendere il meglio del meglio e farlo tuo. Grazie all'ipnosi di CS vera e professionale. Fammi tutte le domande del caso, non credere a nessuna parola del sottoscritto, vai su internet, su fonte accreditate, documentati su cos'è l'ipnosi vera e professionale, sull'effetto lucifero, eccetera, eccetera. E poi sono a disposizione se vuoi farmi delle domande. Visita il sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me, medesimo. Nel 2008 fino ad oggi e a centinaia e centinaia di persone che ho aiutato nel mondo, anche solo con degli audio di CS, immagino un po', io non sto parlando neanche delle sessioni online che ne ho fatte migliaia. E poi seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e alla prossima. Ciao.